Sì, papà, perché picchi la mamma? Sei cattivo! Ma che stai dicendo? Non ho mai picchiato tua madre. Invece sì, l'ho sentita. E sentiamo quando? Ieri notte. Ti dicevo, fai piano, mi fai male. No, ma chi ho capito? Si era solo fatto male, ecco. Le stavo curando una ferita. Vabbè. Da ora e poi vorrò controllarvi.